Un interessante video serale. Parliamo sempre di giocatori che interessano al Milan del 2004, del 2003, del 2005 e del 2006. Però il Milan ha già nelle sue fila due giocatori non del 2004, 2005 e del 2006, ma giocatori del 2007 come Pereira e Mattia Liberali e un giocatore del 2008, Francesco Camarda. Giocatore, quest'ultimo soprattutto, essendo un bomber, chiaramente il bomber riscuote sempre più interesse. È un giocatore ben conosciuto da chi segue il settore giovanile del Milan, ma anche per chi segue in generale il Milan. L'articolo Il pezzo oggi su Milan News di Antonello Gioia mi ha suscitato interesse e mi ha stimolato per mandare questo video. Dice Antonello Gioia che nella primavera si allenano un ragazzo di 14 anni, 2008 Francesco Camarda, e due ragazzi del 2007, Liberali e Pereira. Signori, la primavera ha 2002, 2003, 2004, 2005. Per chi non lo sapesse, un anno, due anni è un abisso. Ci sono proprio delle categorie, i ragazzi fanno proprio fatica fisica, fanno fatica da livello di intensità di gioco. Ne so qualcosa perché ai livelli familiari io ho seguito ovviamente da tanti anni mio figlio che gioca in altre categorie, ha seguito un percorso totalmente diverso, ma è sempre settore giovanile di tante squadre, non a livello professionistico. E dicevo, allenarsi con la primavera per un ragazzo di 14 anni e due ragazze di 15 anni, e beh, è tanta roba. Mi dicono, attenzione questo Francesco Camarda, realizza il gol della vittoria nel finale contro la Fiorentina nel campionato under 15 dello scorso anno, è capocannoniere quest'anno, addirittura è convocato nella nazionale under 16, under 16 nelle prossime convocazioni. Quindi un ragazzo che brucia le tappe per essere un bomber. Ma io voglio partire da un altro punto. Non sto a lodare Francesco Camarda perché realizzi gol, la famosa frase che non dirò mai perché la parola predestinato non mi piace, un ragazzo applicato che sta facendo bene. No, io parto da un altro punto. Camarda, Liberali e Perano non lo so, magari anche loro e chiedo scusa a loro. Va bene a scuola. Camarda frequenta il liceo e va bene a scuola. Il fatto che vada al liceo. Io conosco la situazione di questi ragazzi. Questi ragazzi finiscono la scuola la mattina, panino in bocca e allenamento nel pomeriggio. Non è come mio figlio che si allenava dalle 5 alle 6 per quasi sempre. Chiaro che è un sacrificio, bisogna organizzarsi. Però questi ragazzi che giocano in squadre professionistiche è una vita dura. E se tu riesci ad andare bene a scuola, dopo due o tre ore di allenamento intenso, dopo che tu arrivi a casa alle 5 alle 6, sei stanco, devi studiare fino alle 10, hai la vita sacrificata non puoi uscire, anche se ho 14 anni, però esce ovviamente e sei bravo a scuola, già è un eccellente punto di partenza. Quindi Camarda lascio stare il fatto che sia una promessa perché realizza tanti gol. Sembra che io non studio le statistiche, non ho parlato con la famiglia, ma ha realizzato più di 500 gol in questi anni. Pensate, è stato visto da Manna e Vallelonga, mi sembra i due nomi, li ho letti una volta, addirittura quando aveva 6 anni nel 2014. A 6 anni già dicevano attenzione a questo ragazzo e nel 2016, quindi a 8 anni, era già del Milan. Quindi un ragazzo che già da piccolino faceva la differenza. E, ripeto, il fatto che vada bene a scuola è un punto di partenza importante perché vuol dire che ha la testa, vuol dire che sa quanto sia importante il calcio, quanto desideri diventare un giocatore. Io per adesso non dico un campione fuori classe, un giocatore, perché anche quelli che giocano in BNC sono grandi giocatori. Ma lui studia, è nel Milan ed è milanista. È un altro tonalino, è un altro tonalino. Sicuramente avrà avuto magari già dei contatti della famiglia, delle promesse, perché succede sempre in questi casi. Ma lui ha una sola voglia, la voglia di rimanere al Milan, è un altro tonali. Quindi seguiamolo, seguiamo un ragazzo intelligente, un ragazzo che in campo non regala nulla a nessuno, però è un ragazzo che va bene a scuola, va bene a scuola. Quindi ragazzo che va bene a scuola, bomber. Mi sembra che l'accoppiata sia già interessante. Non dimentichiamo che Ambrosini ha preso il diploma mentre stava venendo al Milan. Pensate che testa l'avete, lo vedete tutti i giorni nella testa di Ambrosini. Poi ci sono dei giocatori che per questioni familiari o per questioni di situazioni familiari, dicevo, ma anche situazioni logistiche o temporali, non hanno potuto poi frequentare e essere costanti negli studi. Però Camarda direi che abbina questi due punti. L'andiamo a vedere. È convocato nella nazionale Under-16. Under-16 che sarà a Coverciano. Ha addirittura due anni più della sua età. Potrebbe giocare addirittura ancora nell'Under-15. Non so se è nell'Under-14. Però seguiamolo. Andrò a vederlo qualche volta per capire, mentre per capire, per vederlo, per capire le sue qualità, per ammirarlo. Però, ripeto, mi dicono, no, mi raccomando, non parlare troppo di Camarda. No, ne parlo. Ebbene, come scolaro innanzitutto. Per quello che riguarda il calcio, lo dimostrano le convocazioni. Abate, che vi dico anche perché l'ha convocato, hanno convocato questi ragazzi perché non ci sono dei giocatori della primavera che sono aggregati alla prima squadra. Ci sono del campionato 17-18. Non si ferma domenica. Invece si fermano gli altri campionati, il Under-16 e l'Under-15, mi sembra, per questione di impegni con la nazionale. Quindi è venuta l'opportunità. Ma Abate lo convoca volentieri perché incomincia. Io ricordo quando mio figlio assennava con la prima squadra. Ricordo anche che l'allenatore una volta gli disse, ma cosa che a Camarda non diranno perché è ben fisicato, è 1-84. Mio figlio non è 1-84. Gli dissero, il portiere aveva un fisico alla Mignan, ma anche più alto. Quando il portiere chiama mia, gli hanno detto, lui aveva 15-14-15 anni, tu non andare, non saltare. Me lo ricorderò sempre perché è pericoloso andare contro un portiere. Non è un problema per Camarda che è ben fisicato. Ma voglio parlare anche di Mattia Liberali. Mattia Liberali mi ricordavano al settore giovanile un episodio. L'allenatore dell'Atletico Madrid nella Youth League dello scorso anno disse ai dirigenti del Milan, voi, e non giocava Liberali, l'aveva visto nelle nazionali Under-15, avete il trequartista più forte d'Europa. Avete il trequartista più forte d'Europa. Mattia Liberali. Io non vorrei che Liberali si montasse la testa. Però è un altro trequartista molto interessante, che punta l'uomo, che quindi seguiamoli, che è bravo nell'uno contro uno, grintoso, quindi un altro giocatore da seguire, come Perera che invece è un terzino. Quindi questi tre giocatori sono giocatori che magari vedremo presto. Mattia Liberali deve crescere, è già cresciuto anche Francesco Camarda e quindi seguiamoli. Oggi ho voluto dedicare, io non parlo molto del settore giovanile, anche perché adesso è la primavera di Abate, sta andando molto bene, soprattutto in Youth League è un po' alterna nei risultati in campionato, ma in Youth League ha un cammino autorevole. Quindi seguiamo questi ragazzi, volevo fare i complimenti. Sicuramente non si montano la testa perché, e anzi, anzi vi racconto anche un altro aneddoto. Io di solito mi chiedono sempre le foto e non dico mai di no. Probabilmente in quel momento, oppure avevo il collegamento con Tele Lombardia, non lo so, poi me lo disse un amico. E Camarda ti ha chiesto la foto, allora devo proprio chiedere scusa a Camarda, andrò sotto casa sua e gli dirò, scusa tu fai la foto con me, non io con te. E così magari mi farò perdonare per questo tra virgolette sgarbo. Seguiamo questi due ragazzi, non sono stranieri, non voglio le visualizzazioni dicendo il Milan ha due campioni fra i giovani, seguiamoli. No, io per quello che riguarda Camarda faccio i complimenti. Perché fa gol? No, perché va bene a scuola. E intanto è già importante. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella. Oggi sono usciti gli episodi 11 e 12 della storia del Milan. Il 6 a 0, i gol di comandini e comandini giunti, Scefcenco e Scefcenco e Serginio e poi l'anno dopo lo scudetto del centenario. Se vi è piaciuto questo video, ripeto, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e sono curioso di andare a vedere Liberali e Camarda. Per il soprannome è un po' presto.